Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho 72 anni, qualcuno mi disse, fa una cosa, vai a nord e chiedi di questa persona. Ho andato prima all'Algeria, poi Tunisia, poi Italia, Sicilia, poi Napoli. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano. Ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà.